Callo Smilordo, neotecnico della squadra dell'Antillo-Valdacro, le prospettive della tua squadra per quest'anno? Le prospettive di fare un campionato al vertice, però di media classifica, di fare bene con i giovani che già c'erano in organico nell'Antillo-Valdacro, soprattutto con i giovani che sono venuti a rinforzare questa squadra. Siamo un organico di media classifica, poi sarà il campo a darci ragione o torto se ci sarà. Quindi c'erano molti giovani che sono qui con noi, oggi presentiamo qualcuno dei... Rispetto alla stagione agonistica passata, le novità quelle sono? Io sono il primo anno che alleno qui a Antillo, ci sono molti giovani e molti meno giovani che comunque si sono riaffacciati al scenario della terza categoria come Massimo Cuccuruto, ex bandiera del Misserio, Franco Chillemi, Vittorio Chillemi e poi giovani come Carmelo Buongiorno, prima al Savoca, Lombardo dallo Sport Insieme, Roberto Chillemi sempre dal Savoca, Roberto Smiroldo che l'anno scorso è stato infortunato comunque sempre nelle file dell'Antillo. Gli antillesi dove sono? Gli antillesi ci sono, però questa è una squadra che comunque è cresciuta quest'anno, dobbiamo mettere le basi per fare bene, comunque i giovani sono comunque tutti nell'altra antillese. Ci sono Roberto e Dantillo, Carmelo Buongiorno che è il nostro pupillo al centrocampo e pure Dantillo, io sono Dantillo, il presidente è Dantillo e speriamo di fare bene pure con gli altri antillesi che verranno nella nostra parte. A Dantillo quest'anno ci sono due squadre in terza categoria, il vostro obiettivo è quello di superare quantomeno l'altra squadra? No, l'altra squadra no perché è competitiva, perché il mister Guglielmo fa sempre delle belle formazioni, c'è un organico che è da invidiare a tutte le squadre di terza categoria e penso infatti che sarà una delle squadre che lotterà per il vertice, ma questo penso, lo posso scrivere oggi, che sarà una delle squadre, lo ribadisco, che è una delle squadre più, secondo me, l'organico più competitivo della terza categoria. Oltre a Dantillo chi vede bene in questo campionato la luce anche della campagna acquisti? La luce della campagna acquisti si parla bene del Melia, il Melia ha fatto un'ottima campagna acquisti vedendo Roberto Crisafulli, Sebastiano Mastroeni che secondo me è uno degli attaccanti in terza categoria che fa la differenza, infatti si è visto due anni fa che ha fatto 30 gol nel girone di ritorno e sono dei numeri importanti per la terza categoria. Secondo me il Melia è una delle squadre pure che darà del filo da torcere a questa terza categoria, quindi penso che insieme a Dantillo è una delle squadre più valide, poi non conosco gli altri organici delle altre squadre, quindi non mi posso sbilanciare, però può stare un giudizio su quello che vedo e comunque il Melia e l'Antillo sono delle squadre abbastanza.